Grazie, ringrazio Riccardo per la presentazione, soprattutto per aver detto che sono un pittore, in realtà sono un pittore fallito e sono più che altro scrittore. Dopo vari dubbi e tentennamenti ho ceduto all'idea di mettere in cantiere un romanzo su Michelangelo Merisi, perché avessi dubbi perché tentennassi è ovvio. Parliamo di una vita già ripercorsa più volte, reinventate calcando nei lati oscuri e irrequieti, alimentando un'immagine di un genio maledetto oltre ogni dire, ovvero il classico cliché che uno scrittore con un po' di sale in zucca dovrebbe scansare come la peste. Più forte del buonsenso era però per me il bisogno di risarcire. Per 18 anni, e qui è curioso che lo debba raccontare in 18 minuti, ho agito in maniera abbietta, vergognosa, dimostrandomi più cinico e baro del peggiore dei destini. Mi sono appropriato di questa vita, della vita di Caravaggio, senza scrupoli, l'ho usata. Ne ho fatto una moneta di scambio, mezzo di circonvenzione, di abbindolamento, di fascinazione da quattro soldi. All'origine c'è il luogo di un delitto, una strada, questa strada, poco trafficata nel rione di Campo Marzio, nel centro di Roma. Segue un andamento tortuoso, imboccandola dall'inizio, cioè dal punto in cui la vediamo nella foto, ci si trova quasi subito di fronte ad un bivio, una strada di qua, una strada di là. Per qualche motivo a me ignoto, le due ramificazioni di questa strada portano lo stesso nome, col risultato che la strada ricorda la forma di una Y, anche se una lingua biforcuta è probabilmente un'immagine più adatta a questo mio caso. La strada si chiama Via di Pallacorda e in una guida data alle stampe in pieno ottocento è spiegato che il nome è dovuto a un piccolo teatro chiamato di Pallacorda a cagione dei balli in corda che ivi facevansi, così è scritto nella guida. Di ben altra natura è però l'origine con cui feci conti quando la strada entrò nella mia vita. Riguarda un fattaccio di sangue accaduto il 29 maggio 1606, è registrato con poche lapidarie parole nel libro dei morti della vicinissima parrocchia di San Lorenzo in Lucina. Ranuccio Tomassone fu ammazzato alla scrofa. In un altro documento dell'epoca la dinamica viene così riferita. Due sere orzono, il Caravaggio, pittor celebre accompagnato da un certo capitano Petronio Bolognese, affrontò Ranuccio da Terni e dopo breve menar di mano il pittore restò sulla testa mortalmente ferito e gli altri due morti. La rissa fu per giudizio dato sopra un fallo mentre si giocava alla racchetta verso l'ambasciatore del Gran Duca. Era insomma in corso una partita del tennis di allora chiamato pallacorda perché a dividere i campi avversi veniva tesa una fune al posto della rete e la si giocava verso l'ambasciatore del Gran Duca perché il campo dove le racchette lasciarono il posto alle spalle si trovava tra il palazzo del Gran Duca di Toscana e via della Scrofa vale a dire in via di pallacorda questo qui sulla destra è il palazzo del Gran Duca di Toscana questa è via pallacorda probabilmente il campo di pallacorda era su questo lato qui. L'omicidio che ne scaturì costrinse Caravaggio a una tormentosa fuga terminata pochi anni dopo sul litorale tirrenico dove morì in circostanze poco chiari ma senz'altro miserevoli avendo studiato all'accademia conoscevo già il fattaccio e non dè di grande peso all'accenno che fece Gian Enzo Sperone questo è Gian Enzo Sperone il giorno in cui iniziai a lavorare nella sua galleria in via di pallacorda la galleria si trova su questo lato, sul lato destro più o meno davanti a quelle finestre si trovava perché adesso la galleria non esiste più è qui che successe mi disse Gian Enzo Sperone con non curanza mentre mi illustrava i rudimenti della macchiavellica arte di vendere arte l'arte in cui mi sarei cimentato con scarsi risultati nei 18 anni a venire il fantaccio e i suoi fantasmi non ci misero molto ai retirmi capitava infatti che Gian Enzo fosse sempre in giro per il mondo così mi trovavo spesso a passare giornate di piena solitudine in quella galleria brutta, buia, umidissima e marcescente come ogni cosa a Roma nei pressi del Tevere trascorrevano ore senza che entrasse nessuno qui mi viene da pensare a quanto diceva Sorrentino sulla noia come piattaforma per creare mondi paralleli anche perché la galleria come ho detto si trovava nella ramificazione più appartata della via Bifortuna mi sentivo come il tenente di quel romanzo di Buzzati comandato a un avamposto remoto alla perenne attesa di una minaccia di un evento la galleria non era però il deserto dei tartari ogni tanto qualcuno entrava e siccome si trattava di una galleria di primissimo piano anche se stava in una strada secondaria i rari visitatori erano spesso di eccezioni imprenditori, stilisti, stelle del firmamento hollywoodiano la più grande, diciamo così, stella che ho avuto la fortuna di conoscere è stato Richard Gere che un giorno è comparso da quella porta e mentre ero lì mi si presentò all'ostacolo di intrattenere queste persone nel modo adeguato per Giannesso Sperone non era un problema grazie al suo speciale carisma, alla sua innata eleganza ammagliava chiunque con estrema facilità ecco, ma io? questo ero io un giovanotto sgraziato all'epoca sempre davanti alla porta della galleria senza arte né parte mancavo di qualunque fascino come potevo sperare di blandire i visitatori tanto illustri come potevo indurli a sganciare montagne di dollari per un'opera d'arte contemporanea spiegare la bellezza di quelle opere questa è la galleria con una mostra era fuori discussione sono dei tubi, come vedete, sopra dei pedestali di cinamica le spiegazioni spiazzentiscono ammesso che si possa spiegare la bellezza non mi destava che la strategia del nano arrampicarmi sulla schiena dei giganti tanto più che ne avevo uno suadentissimo a portata di mano appena possibile spostavo la conversazione sul fattaccio della pallacorda ogni pretesto era buono introducevo l'argomento con calcolata fortuità alla maniera blasé del mio boss con la differenza che i miei non erano raffinati a cenni fuggevoli ma preludi di lunghi racconti sul caravaggio il circondario mi forniva pretesti a non finire parallelamente a via pallacorda scorreva il vicolo di San Biagio oggi vicolo del divino amore dove Merisi visse e dipinse a partire dal 1604 proseguendo lungo la via della scrofa si raggiungeva la chiesa di Sant'Agostino dove è ancora costudita una madonna di Loreto ritratta con le fattezze di una certa lena Caravaggio la scelse per modella suscitando rumore tra i romani e sconcerto tra i padri della chiesa perché questa lena era nota a tutti come prostituta di Piazza Navona e via di questo passo intrecciando luoghi e aneddoti spesso in modi non del tutto veritieri e fondati tessevo la mia tela con scampoli di storie e fandoie per trasportare il danaroso auditore lontano dall'arte contemporanea catapultandolo al centro di un mondo antico e avventuroso violento e sensuale l'aroma seicentesca cercavo di far brillare di luce riflessa le opere in vendita la luce riflessa di un genio dalla vita fosca e dalla tavolozza di tenebra di rado questo mio uditorio si lasciava incantare al punto di staccare un sostanzioso astegno ma era nell'economia delle cose vendere arte, arte contemporanea non è affatto facile peraltro il riuscire nell'intento mi procurava più vergogna che soddisfazione mi sentivo come un bieco mercante degno soltanto di essere scacciato a pedate dal tempio uscito il visitatore provavo immancabilmente un tremendo senso di colpa immaginavo Merisi, Caravaggio rivoltarsi nella tomba per la rabbia mi figuravo il suo schifo per i miei mezzucci da imbonitore e per le opere che cercavo di vendere per l'arte contemporanea tutta mi consolavo pensando che il disprezzo non fosse poi scontato in fondo il suo era un cervello stravagantissimo come lo definivano i contemporanei suoi magari non mi disapprova dicevo ma ne dubito una cosa può consolarmi il fatto che Caravaggio si affigura da sempre oggetto di fraintendimenti e manipolazioni quando era ancora studente all'accademia ebbi la fortuna di assistere alla proiezione speciale di un film a lui dedicato lo definisco speciale perché si trattava di una sorta di prima e parlo di fortuna perché in sala erano presenti insegni studiosi ciò nonostante il film mi sembrò noioso qui ritorna ancora la noia oltre che stupido e brutto per lunghi tratti mi appisolai il momento più esaltante giunse una volta scorsi i titoli di coda riaccese le luci dalle poltrone di prima fila si alzò lo studioso più insignia di tutti il professor Maurizio Calvesi disse poche parole non so cosa sia questa roba ma di certo non è Caravaggio se ne andò scuro in volto senza aggiungere altro mentre in sala si rumoreggiava aveva ragione di scandalizzarsi tanto il regista, il britannico Derek Jarman aveva dedicato sette anni alla realizzazione della pellicola l'aveva curata nei minimi dettagli concedendosi tuttavia molte licenze la parte del protagonista era stata affidata all'attore Nigel Terry che fece di Caravaggio un uomo alto, smunto e sangue pervaso di una sensualità decadente questo è l'attore come Caravaggio in un disegno che ho scovato su internet in realtà i contemporanei lo descrivevano in modo molto diverso come un giovenaccio con poco di barba negra grassotto con ciglia grosse ed occhio negro considerata in sé la fisionomica la fisionomica sarebbe irrilevante il guaio è che nel film era funzionale a fare dell'omosessualità la chiave principale quasi esclusiva per comprendere la stravagantissima personalità dell'artista una chiave che evidentemente piacque poco al professor Calvesi quella delle tendenze sessuali di Caravaggio è una partita ancora aperta c'è chi legge l'intera sua opera sotto questa luce chi liquida la faccenda come irisibile falsa e infondata ma non è l'unica questione risolta per esempio si dibatte sull'ortodossia dell'artista che alcuni suoi dipinti furono rifiutati perché indecorosi ha indotto molti a vedere in Caravaggio un rivoluzionario un eretico persino altri sostengono invece che la sua arte fosse perfettamente in linea con i dettami cattolici del tempo fin anche sul modo in cui lavorava sulla tecnica non c'è intesa di vedute i contemporanei suoi rivali gli rimproveravano di non disegnare questa convinzione è sopravvissuta sino ai giorni nostri la mancanza di studi preparatori l'assenza di un disegno sottogiacente come dicono i tecnici nelle sue pitture quasi che abbozzasse le figure direttamente sulla tela ottenendo comunque risultati di stupefacente realismo sono alla base della suggestiva ipotesi in base alla quale Caravaggio fese ricorso a strumenti ottici e persino a speciali impasti che ossidavano alla luce in una sostanza in una sorta di primitiva emulsione fotografica in realtà sono state trovate delle sostanze come arsenico e argento sulle sue tele per cui alcuni studiosi ritengono che lui usasse questa preparazione per fissare la luce sulla tela creando una sorta di fotografia che durava lo spazio di un paio d'ore al massimo ma che gli serviva praticamente per ricalcare le ombre e le luci e ottenere questi forti effetti fotografici ora non sta certo a me dire una parola definitiva su questi altri nodi risolti ciò che qui conta è che è fatta alla grandezza del suo genio la ragione per cui Caravaggio strega il mondo consiste proprio nella multiforme d'utilità del suo personaggio ognuno può ritagliarsi il Caravaggio che preferisce l'omosessuale violento l'eversore a rischio di inquisizione l'antecipatore della fotografia e forse anche del cinema sono tutti ritratti credibili anche se con molta probabilità tutti falsi e questa sua d'utilità le tante diverse facce che assume agli occhi dei posteri non sminuiscono affatto la figura semmai lo esaltano lo rendono mirabilmente italiano l'uomo capace di trasformarsi di essere più cose a un tempo il vero Caravaggio semmai ce ne fu uno ci è comunque ignoto e questo forse mi assolve seppure soltanto con la condizionale per essermene servito come strumento per blandire i visitatori della galleria in via di Pallacorda quanto all'omicidio avvenuto in quella strada biforcuta fu preterintenzionale lui non voleva uccidere Ranuccio probabilmente lo voleva soltanto evirare prese male la mira con la spada e lo colpì sull'arteria femorale volontario fu invece un altro suo assassino quello della pittura perché Caravaggio uccise la pittura e come perché la uccise si intende soltanto il mio Caravaggio e non posso rivelarlo adesso ma a tempo debito quando avrò finito di scriverne il romanzo sempre che lo finisca grazie